Scusa, devo immortalare questi momenti! Aspetta un momento, dottor Asso, Kelly or Kelly? Sì, a te! Certo! Ehi, tu! E tu l'hai trovato, se no! Non ti riesco il caldo! Poi una foto, eh! Quante foto? Beh, devi fare una foto di gruppo, eh! Vieni un po', mi mangi! 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 Dai, Antonella, mostra la collana! Vieni un po', mi mangi! No! Sì, no! La foto di gruppo ci vuole tantissimo! Ma dopo dove andiamo? E non so, io non so! Io non sono tanto donna di mondo! Hai detto, no, no! Non lo che là, veramente! Però... Molto! Alla frasca! Sera, sera, sera. Sera, sera. Sera, sera.